Buonasera e benvenuti a Professione Teatro, la rubrica teatrale dedicata al teatro professionistico in onda settimanalmente su Edoardo. Ci troviamo qui con un amico della nostra emittente, un amico mio di persona, Ernesto Maier, un grandissimo attore che non ha certo bisogno di presentazioni. Lo ricordiamo per le sue grandissime performance attoriali sia al cinema che al teatro, Davide Donatello, Globo d'Oro con l'imbalsamatore. Ecco Ernesto, Ernesto è una persona che peraltro è molto impegnata anche nel cercare di infondere l'arte teatrale, questa passione, nei giovani e in coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del teatro. Ecco, infatti tu mi risulta che abbia una scuola di teatro, Vocazione Arte Vesuvio, ce ne vuoi parlare un po' di questo particolare impegno? Vocazione Arte Vesuvio ha tre anni di vita, siamo al terzo anno, questo, e per grazie di Dio questa scuola sta andando sempre meglio, abbiamo iniziato in Sordina, adesso siamo diventati una bella realtà. Quest'anno ho creduto opportuno di fare Viviani perché i ragazzi purtroppo non conoscono il napoletano, gravissimo, e quindi quale autore per far studiare, quale autore si esprime meglio in napoletano per far studiare i ragazzi in napoletano? Raffaele Viviani. Niente, la nostra scuola continua, noi quest'anno abbiamo fatto Vico di Raffaele Viviani come saggio, il mago di Ozz per i bambini, che è il nostro fiero all'occhiello della scuola, devo dire, i bambini seguono molto, piace molto al loro nostro modo di porgere questo teatro in maniera giocosa, non in maniera noiosa. Il teatro poi in fondo è un gioco e noi cerchiamo di coinvolgere i bambini e ci siamo riusciti, infatti abbiamo un folto gruppo di bambini che vengono felici, o un gruppo anche di adulti. La nostra scuola funziona abbastanza bene, ne siamo lieti e fieri, c'è un bel corpo insegnanti, noi riapriremo a settembre, intanto sono già aperte le iscrizioni per il nuovo anno, 2015-2016. Siamo soddisfatti, speriamo di continuare sempre così, di non deludere chi viene da noi e di cercare di creare nuove premesse, nuove promesse attoriali che non è mai troppo avere degli attori bravi, specialmente di questi tempi. Una cosa che mi ha colpito molto positivamente è la presenza di tanti giovani, tanti bambini, che però li ho visti davvero appassionati al teatro. Quindi, a parte la grande professionalità da parte vostra nel cercare di spiegare anche quella che è la tecnica di stare sul palco, insomma tutte le basi che poi sono di fondamentale importanza, soprattutto per chi inizia un po' questo gioco, che poi potrà essere qualcosa di più nella vita. Però riuscite proprio a coinvolgere, effettivamente, sia gli adulti che i bambini. Vediamo quella luce negli occhi che brilla e ho avuto modo di sentire diversi due attori che la pensano così. Qual è il segreto di questo, Ernesto? Ma il segreto innanzitutto ti dirò subito che tra bambini e adulti che noi abbiamo nella nostra scuola, non so quanti di loro veramente poi decideranno di fare gli attori da grandi, eccetera, eccetera. Però il nostro obiettivo è quello soprattutto di sbloccarli. Ma questo vale per chiunque, sai, pure per chi fa il medico, quanti medici, quanti avvocati sono un po' impacciati, trovano difficoltà a inserirsi, a spiegarsi nella società. Quindi la nostra operazione è quella di disinibire la persona, sia bambino o bambino che adulto. E questo serve proprio per la vita, per difenderti da oggi tutti ti vogliono mangiare, no? E noi impariamo proprio a difendersi con i cazzotti, no, ma ad essere colloquiali, a togliere questo imbarazzo, questa timidezza, ecco, i bambini. E questi sono i nostri complimenti più belli, che le mamme e i bambini vengono da noi e dicono, mio figlio da quando viene a scuola è cambiato da così a così, si vergognava di tutto. Diventava russo, diventava così, era sociale, invece oggi, e questo per noi è una grande soddisfazione. Come pure abbiamo degli adulti che avevano difficoltà di inserimento da quando hanno frequentato la nostra scuola, noi questo insegniamo soprattutto, perché poi il teatro è questo, no? Il teatro ti disinibisce e questo qua è il nostro obiettivo. Poi, laddove il terreno è fertile, cerchiamo di dare tutta la tecnica possibile per quello che serve per fare l'attore. Infatti noi facciamo edizione, facciamo impostazione vocale, facciamo canto, insomma, diamo tutto quello che è necessario ad un artista. Poi se c'è la soffa, capirai, cresce tutto, insomma. Restando in ambito teatrale, Ernesto Maie, come ormai tutti i nostri telespettatori hanno avuto modo di poter vedere, è il presidente di giuria del premio teatrale Portici in Teatro, premio Antonio Allocca, il premio che, peraltro ricordiamo, è in memoria di Antonio Allocca, che è recentemente scomparso, assieme a Giovanni Allocca, Elena Bonadies e tanti altri giurati del mondo teatrale professionistico. Ecco, io vorrei chiederti, Ernesto, perché hai deciso di appoggiare così, con grande disponibilità, con grande anche passione, questo premio teatrale che, peraltro, ricordiamo, è un premio organizzato da un gruppo di giovani? Questo, ti sei dato la risposta da solo. Io ho accettato perché è una cosa organizzata da un gruppo di giovani, un gruppo di giovani che decidono di creare un premio teatrale di un attore scomparso, un attore bravissimo napoletano, che ha dato tanto a Napoli, all'Italia, ha fatto tanto cinema, tanto teatro, e questo progetto non nasce da persone addette ai lavori, non nasce da un gruppo di ragazzi che amate il teatro. Per me, chi ama il teatro, va premiato. Mi sono reso disponibile al vostro progetto, perché siete ragazzi veri, sinceri, che amate il teatro. E non c'è nulla di meglio per ragazzi della vostra età, amare una cosa così bella, sana e ricca di umanità, che è il teatro. Grazie mille ad Ernesto Maier per la sua disponibilità. Ricordiamo, vocazione arte Vesuvio, in sovraimpressione possiamo vedere la pagina Facebook e il sito internet, quindi potete raggiungere la scuola anche per chiedere delle informazioni e approcciarvi a questo fantastico mondo del teatro. Ricordiamo inoltre, premio teatrale Portici in Teatro, premio Antonio Allocca, anche qui ci sono tutti i nostri riferimenti. Iscrivetevi in tanti compagni amatoriali e monologhisti amatoriali del territorio nazionale. Grazie mille da Giorgio Bruno ed Ernesto Maier. Arrivederci, volevo ricordare che fra poco vedrete in rete il sito di Evocazione Arte Vesuvio fatto da un grande amico mio, lui. Grazie mille. 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 Grazie a tutti